L'Utmila è arrivata, che è sfuggita così, col pigiama così, perché una bomba? Bomba è entrata dentro la casa e è spaccata tutto, le stava sul carrizoio, lei ha preso soltanto questa qua, tutta. L'Utmila è fuggita da Kharkiv e è arrivata in Abruzzo in pigiama, così come era vestita nel momento in cui una bomba ha distrutto la sua abitazione in Ucraina. Ci mostra la ferita alla gamba causata da una scheggia, ora è ospitata da una sua connazionale Tatiana che vive da tempo in Abruzzo. Quando è arrivata la bomba, come tutto è caduto, le porte, le finestre, tutto è stato il polvere e hanno dato una botta sulla gamba, poi sul petto e sulla testa. Tante le storie come queste che si incrociano al Paladin Martin di Montesilvano, dove c'è un vero e proprio emporio della solidarietà per i cittadini ucraini giunti nella nostra regione scampati alla guerra. Qui ci sono generi e beni di prima necessità che hanno riempito i locali grazie al grande cuore degli abruzzesi. I rifugiati ucraini che lo vogliono possono recarsi qui per trovare ciò di cui hanno bisogno, anche grazie alla professionalità e all'accoglienza di chi opera in questa struttura. Marco Scorrano, responsabile della protezione civile del comune di Montesilvano. Il nostro emporio solidale viene alimentato attraverso le donazioni dei cittadini del comune di Montesilvano e dei comuni limitrofi e che nelle giornate di martedì pomeriggio e venerdì pomeriggio dalle 15 alle 19 possono donare generi di prima necessità e generi alimentari che poi sempre nello stesso intervallo vengono distribuiti ai profughi ucraini che sono ospitati presso il nostro territorio. Dunque i rifugiati ucraini possono venire anche qui per, come dire, usufruire di ciò di cui hanno bisogno? Per quanto riguarda generi alimentari e generi di prima necessità, sì, è aperto uno sportello dove sono presenti degli interpreti e degli assistenti sociali dell'azienda speciale per i servizi sociali del comune di Montesilvano che tutte quante le mattine dalle 9 alle 13 sono disponibili per l'ascolto e per assistere i profughi ucraini che sono presenti sul nostro territorio. Presentano delle richieste di generi alimentari e di generi di prima necessità che poi gli vengono consegnate nelle giornate di martedì e venerdì pomeriggio. Quanti rifugiati ucraini sono ospitati negli alberghi qui nel territorio? Al momento circa 450 persone di cui circa 100 bambini. Soprattutto donne e bambini? Quasi la totalità donne e bambini c'è qualche uomo anziano. Qualche storia particolare che, non so, ti ha preso, ti ha commosso particolarmente? Sono tutte quante situazioni che stanno vivendo persone, un disagio unico che in qualche modo tocca il cuore di ciascuno di noi ed ecco perché stiamo donando ogni istante del nostro tempo libero per cercare di alleviare le loro sofferenze. Fino a quando è possibile, fino a quando resterà aperto questo centro? Fin quando avremo la disponibilità di beni e di merci da poter distribuire, noi resteremo con il nostro servizio. Grazie a Tatiana, ascoltiamo la testimonianza toccante di Ludmila. Paura, paura, grande paura. Tutta la gente quando cammina tremano. Mangiare non c'è, riscaldamento non c'è, luci non c'è, acqua non c'è. Tanti, tanti vittime. Grazie mille a tutti voi italiani perché voi aiutate così gente come questa signora. Grazie mille a tutti.